Alessandro Frangioni è il presidente della Sassone Conciatori Santa Croce sull'Arno, ma anche titolare della Conceria San Lorenzo. Spacchiamo l'obiettivo qui dietro perché è veramente colori sgargianti. Il nostro è un articolo prettamente invernale, però piano piano le stagioni si sovrappongono e quindi abbiamo pensato bene di fare anche dei colori più vivi, più solari, più adatti per quello che è un periodo dell'estivo, il periodo del sole, il periodo dell'estate. L'Associazione Conciatori è sempre presente per quanto riguarda i propri associati. Come stanno andando i lavori al depuratore? Per quanto riguarda il depuratore siamo andati a costruire questa mega vasca da circa 30.000 metri cubi. Abbiamo anche il progetto di fanno un'altra, stiamo andando avanti con quello che è l'accordo di programma. Diciamo che noi ci crediamo, ci vogliamo investire perché naturalmente ci sono dei buoni investimenti anche da parte nostra, a parte i soldi pubblici, ma proseguiremo e penso anche che daremo vita a breve a quella realizzazione dell'acquedotto industriale, scelta che ormai abbiamo fatto nel passato e che vogliamo portare avanti appunto ora, in questo momento. Qual è la situazione del distretto industriale di Santa Croce sull'Arno? Diciamo che le prospettive per l'invernale e quindi un momento ora degli ordini ci sono buone, anche se sostanzialmente siamo credo un mese in ritardo, ma non una particolare firma, un po' tutto il mondo è in ritardo, quindi stiamo ancora aspettando gli ordini, però le prospettive ci sono. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!